Stava per iniziare la settimana. Per gli studenti significava chiudere il capitolo del divertimento iniziato oramai dal lontano giovedì universitario e ricominciare la vita di tutti i giorni fatta di appunti, libri e caffè. Ma quel lunedì non arrivò mai. Era il 6 aprile del 2009 e alle 3.32 una scossa violenta di terremoto distrusse una città intera, l'Aquila, spazzo via la vita di 309 persone e ne distrusse molte altre. L'ho capito da solo che per una certa sicurezza ce lo voleva una casa sicura e allora questo credo che questo ha salvato la famiglia mia. Io non sarei mai andato ad abitare una casa, perché da piccolino che provo queste cose, a una casa di terra, magari col tetto anche di cemento, però le mura in terra. È una cosa assurda. Poi la questione dell'Aquila mi ha fatto capire qualche cosa, che il centro storico è crollato, ma le case in cemento armato se sono rotte, sono scese di un piano, però i danni non sono stati quelli che è successo, ma quelli che sono stati amatrici. Torre Civica, XIII secolo, Corso Umberto I, Chiesa di Sant'Agostino. Buon fin, ciao. Buon mo'. Buon mo'. Buon mo'. Buon mo'. Buon mo'. Buon mo'. È una questione veramente di consapevolezza. Le persone devono sapere che i terremoti ci possono essere, così come quando vanno in macchina sanno che ci può essere un incidente d'auto e quindi si mettono le citture, hanno un'assicurazione, fanno controllare la macchina. Deve essere la stessa cosa per i terremoti. Se non è così, quando viene il terremoto non siamo pronti. Uno può dire che noi mettiamo le citture perché se no ci fanno le multe, ma in realtà abbiamo obbligato noi il legislatore a dire facci la multa se non porto la cittura perché così sono sicuro. E' uguale per i terremoti. Non si può aspettare che un terremoto costruisca una regione, cioè distrugga una regione per costruirla meglio. Va messa in sicurezza prima che venga il terremoto. Pochi sono i fondi stanziati negli anni per la messa in sicurezza degli edifici sul territorio italiano, molti di più quelli spesi il giorno dopo la tragedia. Oltre il 40% del suolo italiano è a rischio sismico elevato e il 60% degli edifici è stato costruito prima della metà degli anni 70, quando sono entrate in vigore le prime norme antisismiche. È un edificio vetusto perché possiamo vedere la muratura in pietrami informe con una malta di scarsissime caratteristiche, molto decoese. Quindi è già un edificio che in partenza era estremamente vulnerabile alle azioni sismiche. Poi notiamo anche un tetto in cemento armato, che è sicuramente un intervento successivo, però quello che si nota è che non è stato fatto, almeno così sembra, nessun intervento sulla muratura e questa sicuramente è stata la causa del crollo. Quindi i tetti in cemento armato pesantiscono la muratura? Sì, sicuramente c'è un aumento del peso. Quante strutture sono fatte così nella città di Matrice, comunque nei luoghi colpiti e che quindi hanno terminato il crollo? Noi ne abbiamo trovate numerose, siamo con tetti rifatti in cemento armato, abbiamo trovato peraltro, questo devo dire, sia edifici che sono crollati sia anche che sono rimasti in piedi. Questi sono quelli che hanno provocato i danni maggiori, perché comunque la muratura è preferibile fare un tetto in legno. E perché secondo lei negli anni sono fatti tutti questi tetti in cemento armato su delle pareti in muratura? Perché nel 79, nella ricostruzione del 79, l'avvento di questo benedetto, maledetto cemento armato ha fatto sì che con la scusa di rifare il cordolo di coronamento in cemento armato si è speso molto poco, anzi quasi niente sul rafforzamento delle murature, si sono rifatti questi cappelli pesanti sopra che sconquassano comunque il fabbricato, riaccentuano i danni che erano stati riparati prima senza avere alcun beneficio. Norcia non ha avuto danni l'altra sera, anche se era proprio al limite della zona del terremoto, esattamente come la matrice era al sud della zona del terremoto, Norcia a nord. La matrice è stata rasa al suolo, Norcia a nord, perché Norcia era stata restaurata bene dopo l'ultimo terremoto e ha avuto pochissimi danni, neanche un ferito. La matrice avrebbe dovuto essere nella stessa situazione, senza aspettare di essere rasa al suolo da un terremoto. Va le passate le cani fulebri, le cani fulebri con i carabinieri, va le passate. Ad oggi, per la ricostruzione post-terremoto, lo Stato ha investito 150 miliardi di euro, ma in prevenzione ha stanziato solo 965 milioni di euro dopo il terremoto dell'Aquila del 2009. Appena un miliardo per il cosiddetto Piano Nazionale della Prevenzione Sismica, di cui sono stati spesi pochi milioni in soli 250 edifici pubblici. La prevenzione, cioè la prevenzione, significa intervenire prima del terremoto. Qui però bisogna comunque considerare anche dei vincoli di tipo politico e economico, perché mentre per esempio per la riparazione si può sforare il vincolo di stabilità, mentre non mi risulta che questo si possa fare invece per le opere di prevenzione. Secondo l'OICE, l'Associazione delle Organizzazioni di Ingegneria, Architettura e Consulenza Tecnica Economica, l'adeguamento antisismico del patrimonio immobiliare italiano vale 36 miliardi di euro, un quinto dei soldi spesi negli anni per la ricostruzione degli edifici distrutti. Le case che non sono sicure non devono essere abitate. Le case in terra non possono essere più abitate se è una zona sismica. Perché invece vanno delle personcine, dei bambini, che non decidono loro di andare lì. Ce li porti? Ce li portiamo noi, i genitori. Tanto noi non siamo tanta gente, non è all'altezza di capire se è... Lo Stato capisce, ci stanno i tecnici che stanno apposta per questo, quindi loro dovrebbero decidere se quella casa è abitabile o non è abitabile. Sappiamo quali sono gli edifici su cui bisogna intervenire subito. Ce lo dice il rapporto Barberi, che per la prima volta nel 1999 ha censito tutti gli edifici pubblici che devono essere messi in sicurezza contro il rischio sismico e idrogeologico. Il problema è naturalmente gli investimenti, investimenti dello Stato, ma dipende anche dai privati. Cioè è necessario che ogni volta che si fa una ristrutturazione si pensi non soltanto all'estetica, ma anche alla struttura e al comportamento, alla sicurezza sotto sisma. Secondo lei quindi nel caso in cui le case fossero costruite diversamente avremmo avuto meno morti? Certamente. Molti di meno? Certamente, molti di meno. Molti di meno. Grazie a tutti.